buongiorno oggi è la festa di san marco evangelista in italia coincide anche con la festa della liberazione la termine della seconda guerra mondiale per noi cristiani lo sguardo si allarga a tutto il mondo proprio perché marco ci ricorda l'essenza del battesimo quella di diventare annunciatori della buona notizia a tutte le creature così racconta il brano del vangelo della liturgia al capitolo 16 di marco i versetti dal 15 al 20 che concludono il libretto del discepolo di pietro e paolo l'evangelista che sembrerebbe essere stato presente nella notte della cattura di gesù nel gezzemani quel bambinello che lascia lenzuolo e scappa via nudo secondo il testo evangelico sarebbe proprio lui quel bambinello che è diventato un grande annunciatore appunto e che ci ha lasciato il testo che meditiamo essere dunque cristiani vuol dire essere annunciatori del vangelo qui sta la radice della chiesa in uscita che papa francesco ci invita a riscoprire continuamente la chiesa in uscita non è una novità del terzo millennio ma è l'essenza della chiesa stessa quella radice profonda per cui gesù stesso l'ha voluta non è chiesa se non è missionaria non è chiesa se non è continuamente preoccupata di arrivare a tutti ed annunciare il vangelo il testo di marco mostra come gesù stesso il signore risorto confermi tutto ciò con il dono delle stesse energie della stessa potenza che gli aveva come figlio di dio in questa terra che diventano il modo attraverso il quale riconosciamo che davvero i discepoli di cristo portano in sé la missione divina cacciare i demoni prendere in mano i serpenti parlare lingue guarire i malati e resistere anche alla forza negativa dei veleni sono tutte immagini modi per cui noi possiamo dire che davvero chi è inviato da gesù nella missione meravigliosa di annunciare il vangelo porta con sé la forza dirompente dello spirito santo e questi segni che sono la firma di dio l'azione della chiesa ampliano il nostro sguardo a riconoscere che ben altri miracoli avvengono per i discepoli del signore impegnati a favore dell'umanità il perdono la riconciliazione la pace autentica questi sono i veri segni che dicono che sta agendo la chiesa chi non opera per la pace chi non promuove il perdono chi non agisce per riconciliare ma stimola piuttosto alla contrapposizione all'odio e alla guerra evidentemente non viene da dio o almeno non si lascia ispirare dallo spirito santo del signore risorto buona festa di san marco a tutti gli evangelizzatori della terra e anche quando la riconoscere i grossi lontali suoltre speziagni del signore è